Giancarlo Vasco è stato nominato nuovo componente dell'Aggiunta Comunale Enna, sostituisce l'assessore Salvatore Sanfilippo che si è dimesso nei giorni scorsi. Tra le deleghe assegnate a Vasco figurano verde pubblico, viabilità e politiche agricole. Si è spento all'età di 85 anni Don Giovanni Messina, già parroco della parrocchia di San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena a Borgo Cascino e cappellano delle suore di Maria Ausiliatrice e delle suore Angella a Pietra Persia. I funerali si terranno sabato alle 10.30 nella chiesa madre di Pietra Persia. È giunto al comando provinciale di Enna della Guardia di Finanza il sottotenente Roberto Gargiulo. L'ufficiale è stato destinato al comando della sezione tutela finanza pubblica del nucleo di polizia economico-finanziere di Enna, in sostituzione del tenente Pierluigi Licchetta, trasferito di recente al comando della Compagnia di Tarquinia. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, prevista per sabato, la prefettura di Enna ha scelto di utilizzare l'immagine della scena del Ratto delle Sabine, riprodotta sul pavimento di uno dei mosaici della Villa Romana del Casale, come simbolo della manifestazione. Nel territorio sono in programma diverse iniziative, sabato mattina con il patrocino del comune, l'associazione Il Solco e il Vespa Club organizzeranno un momento di riflessione al belvedere di Enna, di fronte alla panchina rossa dedicata a Vanessa Scialfa. L'ue di mattina la Questura e il Comune organizzeranno un evento al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina dal titolo La violenza di genere nella provincia ennese. Sabato alle 18.30 Manuel Di Maggio presenterà il Garage Arts Platform di Enna, il libro di poesia intitolato Il Confine. Oltre all'autore interverranno l'editore Maurizio Vetri, l'attrice Patrizia Fazzi e il musicista Gaetano Fontanazza. Domenica mattina a Piazza Armerina, presso la biblioteca comunale Alceste Remigio Roccella, si terrà l'incontro intitolato Eccellenze Siciliane, storie, classificazione e caratteristiche nutritive dei grani antichi e oli siciliani. Nel pomeriggio è in programma una visita guidata alla Villa Romana del Casale. La giornata è parte integrante del programma del 49esimo Premio Internazionale Garofano d'Argento. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede per le utenze domestiche venerdì sera il conferimento dell'umido, sabato sera nessun conferimento e domenica sera il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it. Per contattare la redazione scrivete a redazione chiocciolennalive.it Grazie per la visione! Grazie per la visione!